Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula apre le sue porte per farsi conoscere dal territorio ma soprattutto dai giovani chiamati all'importante scelta che li condurrà ad essere i grandi di domani. Tra i fine settimana di Open Day per l'istituto diretto dal preside Pietro Mandia e che vedrà docenti e alunni presentare i ragazzi che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, la ricca offerta formativa dell'istituto e le numerose attività che la scuola mette in campo per favorire la crescita e la formazione dei ragazzi in grado di prepararli al meglio per i futuri percorsi che sceglieranno. Si parte domani sabato 17 dicembre con apertura prevista anche per domenica 18 dicembre. Dalle ore 16 alle ore 20 presso il liceo Pisacane di Padula sarà quindi possibile visitare la scuola con tutte le aule, i laboratori e numerosi luoghi di aggregazione realizzati all'interno dell'istituto. Inoltre i ragazzi presenteranno anche quelle che sono le attività extracurriculari che vengono programmate e realizzate nell'ambito scolastico. Con i docenti e con il preside Mandia sarà poi possibile conoscere meglio i percorsi formativi offerti dall'istituto. Nel corso degli open day i docenti e ragazzi infatti illustreranno le attività tra cui quelle quotidiane nei laboratori e nelle aule 3.0. Inoltre saranno illustrate dettagliatamente le tipologie di indirizzo che offre l'istituto Pisacane con i ragazzi che potranno scegliere tra liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico delle scienze applicate, liceo scientifico biomedico e i due licei scientifici quadriennali, ossia tradizionale e delle scienze applicate. Appena pochi giorni fa inoltre il liceo scientifico Pisacane di Padula si è confermato i primi posti nella classifica annuale del rapporto eduscopio dei migliori istituti scolastici superiori realizzato dalla Fondazione Agnelli. Altri open day sono in programma anche a gennaio, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, sempre nella fascia oraria dalle 16 alle 20.